Un grande capitano, anche oggi una grande prestazione, tutta cuore, determinazione, scelta di tempi in tutti quanti i tuoi interventi. Sì, diciamo che a livello personale sì, è stata una partita abbastanza fatta dal punto di vista di gioco e anche di testa giusta. Però quello che voglio dire è che questo pareggio non ce ne è servito a nulla e quindi andremo a Feltre e andremo a giocarci la partita della vita. Anche perché vedendo i risultati delle altre squadre in questo caso non ci permettono di festeggiare oggi e speriamo che domenica sia molto buono. Quale deve essere un po' il braccio corto, il braccio corto del tennista e il match point? Eh sì, oggi poteramo e dovevamo fare meglio. Com'è che a este deve essere? Sì, a este ci siamo un po' accontentati del punto, il secondo tempo, perché abbiamo visto che il secondo tempo ci siamo chiusi un po' dietro e quindi non ne avevamo un po' più. Quindi ci siamo accontentati giocandoci il match point oggi in casa con Iacchios. Peccato per il gol preso all'inizio perché la partita poteva essere tutta altra cosa. Anche perché se vediamo il primo tempo o le occasioni ne abbiamo creato tanti, il secondo tempo invece ci siamo calati e questo va bene perché potevamo fare meglio il secondo tempo. Questo non è stato tanto nervosismo perché nel secondo tempo ci ha portato un po' a un po' di confusione. Sì esatto, c'è stata molta confusione nel secondo tempo perché non riuscivamo, vedevamo che le giocate non ci riuscivano quindi ci siamo un po' nervositi e quindi non siamo riusciti a capitalizzare quello che di buono avevamo fatto nel primo tempo. Però è anche vero come abbiamo detto appunto con il mister prima che nessuno avrebbe pensato che all'ultima giornata questo rammarico è doveroso, è importante legato al fatto che non è arrivata la salvezza che sarebbe arrivata addirittura con una giornata di anticipo quando al termine del giorno dell'andata nessuno, quasi nessuno Alberto avrebbe pensato a questo. Quindi se ci hai detto giustamente tutto te perché nel giorno dell'andata se vediamo la calcifica abbiamo avuto 12 punti e quasi tutti ci danno per sfacciare, invece ci siamo ricompattati, abbiamo tirato fuori i cosiddetti coglioni e ci siamo tirati fuori dalle sabbie morti. Questo non è ancora bastato perché vediamo che siamo con i mischiati per la salvezza, abbiamo fatto un buon passo in avanti diciamo, però non abbiamo fatto ancora nulla. Nessuno si ricorderà se non ti sa. Passa nel termine ciclistico, adesso qui c'è un volatone incredibile. Sembra che la nostra squadra abbia forza e gomiti per andare a fare. Sicuramente, noi andiamo a felte a fare la nostra battita, noi andiamo a felte per vincere ovviamente. Perché da quello che ho sentito qui fuori, ho sentito un regramo del San Donato che probabilmente la tesa ha sbagliato un cambio. Sarà una volatone incredibile. Sarà una battaglia, sarà una battaglia perché hai il felte di ritorno a secondo, non penso che voglia lasciare la posta in paglia dell'adrighese, quindi è un po' di sicuro di riuscire. Il fatto che però non sono riusciti a essere ancora in gioco l'ultima partita per la vittoria finale, può avere un po' scaricato il felte di tre? Questo sicuramente, sicuramente il felte non sarà a carico come due giornate fa, però attorno a una squadra dove fa l'ultima partita in casa e penso che voglia far bene. Speriamo di trovare i demotivati e questo... Noi avremo tanto assente però. Noi abbiamo a campo l'assente perché è squalificato e vedremo le condizioni di un appello in settimana, come sarà. Ha quell'occhio fuori, squalifica. L'ha detto il mito, l'ha detto il mito. Sembra che appunto ci sia stata notizia. Non mi ricordavo neanche a riformare. Beh, dovrebbero tornare Piurice a 5 a pieno regime. Mi sembra che un uomo ha qualche problema. Sì, lui aveva un problema già dall'inizio della partita. Ieri ha subito un pestone in allenamento e infatti non si sapeva se fare l'infiltrazione oppure no. Non l'ha fatta, ha stretto i denti e adesso vediamo in questa settimana. Non si vedeva in campo che è stato uno dei migliori come sempre, sinceramente. Bisogna ricaricare il pire adesso e pensare solo da un suo tempo perché... Sarà più una questione di nervi, di testa, di gambe, di... Di tutto, ci vogliono le tre C secondo me, cervello, cuore... Il culo... Perché quello non basta mai... In questo caso... Ascolta, dal punto di vista atletico però so che non sarà stato un calcolo il tuo, però hai dimostrato in questa stagione che hai veramente fatto in finale tantissimo direi. Sì, nel giorno dell'andato ho avuto qualche problema sia con le escursioni sia con qualche problema fisico. Nel giorno io torno anche con gli allenamenti, sono sempre stato molto costante quindi... Fisicamente sto bene, quindi continuiamo così dai... Va bene, dai, vediamo di festeggiare di me. Bisogna, domenica c'è una battaglia. Dovevamo festeggiare l'alba. Ma il Chiorse, alla fine... No, no, no. Il Chiorse che l'ha festeggiato soltanto stagione, sto colpo di cuore l'Ederico. No, no, l'Azzigliano. Ma sì. L'Azzigliano che ha una figlia. Quindi l'Azzigliano, è già vinto, è un campionato, mi festeggiano assieme. Era più difficile oggi che a Esther, perché a Esther dico come hanno fatto noi... Il primo tempo secondo me potevano andare in battaglia. Il secondo tempo qualcosa abbiamo rischiato perché c'era un fuorigioco che non c'era, soprattutto lanciano per il cuore.